Ci troviamo nella zona di Piazza Fiume, questa è la palazzina dove stiamo vendendo il piano terra rialzato. Come potete vedere è una zona centralissima, con i servizi a portata di mano e siamo praticamente alle spalle di Via Aldomoro. Entrando nell'appartamento abbiamo l'ingresso. Poi abbiamo il bagno al centro, come potete vedere, un bagno centrale con vasca. Sulla sinistra una camera da letto. Praticamente questa è una camera intera e hanno attualmente diviso la camera con degli armadi. Tuttavia può essere ripristinata la terza camera da letto. Qui abbiamo l'altra parte della camera, come stavamo vedendo, la quale può diventare tranquillamente la terza camera da letto o altrimenti essere lasciata come camera per intero. Qui attualmente hanno adibito al salone, può essere tranquillamente una stanza. E qui c'è un'altra camera ancora. Poi per gusto personale l'una o l'altra può essere adibita al salone. Tornando indietro abbiamo la cucina. È una cucina a tutti gli effetti semiabitabile. Volendo ci si può mettere un tavolino per due persone per poter mangiare. Tornando indietro abbiamo la cucina. Tornando indietro. controlamide. Sulla titolo un tavolino per youtube.